Non spaventatevi, voi regalate al mondo una goccia di splendore, se posso dirla così. Anche a quelli che non conoscete, anche a quelli che dicono che siete forse dei più illusi o della gente che non capisce cosa vuol dire fare un matrimonio così. Il vostro seme d'amore, piantatelo sempre, ogni giorno, bisogna sceglierlo, non fatelo automaticamente, non viene, non viene. Ogni giorno scegliete di amarvi, ogni giorno, oserei dire ogni minuto, scegliete di amarvi. Io, Riccardo, accolgo te, Elena, come mia sposa. Io, Elena, accolgo te, Riccardo, come mia sposa. Tu, Riccardo, porta sempre la tua Elena dentro, tu, Elena, porta il Riccardo, ma non come qualcosa che ti pesa oppure di obbligato, ma come una consolazione, come qualcosa di libertà, come una scioltezza. Grazie. 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 Grazie.